Dopo un'assenza di una dozzina di anni, ho deciso di tornare a trovarli. Piccolo mio. Il viaggio com'è andato? È andato bene? Tutti proviamo una specie di ammirazione per te. Voi pensate che io viva dall'altra parte del mondo? Antoine? Antoine! Sì! Suzanne? Louis? Cazzo, non gridare! Quanto tempo? Quanto tempo, cosa? Abbiamo paura del tempo. Il tempo che ci concedi. Che ci fai qui? No! Non voglio sapere che ci fai qui! Io non ti capisco, ma ti voglio bene. Rimpiango il tempo che abbiamo sprecato, che io ho sprecato. Comunque, è quasi finita. Quello che hai fatto è rovinarci la nostra vita! Non potete stare sempre contro di me! Non potete! Ho una cosa da dirvi. Adesso! No! Adesso! Adesso! Adesso!